Dopo 58 anni buona la prima per il mercato serale, successo di pubblico per le notti bianche al mercato a Battipaglia. Soddisfatti i 90 venditori dell'area di Sant'Anna che hanno messo in mostra, venduto e fatto assaggiare i loro prodotti sotto le classiche bancarelle mercatali. I venditori hanno sfidato i centri commerciali e la grande distribuzione, partendo proprio dalla città di Battipaglia, da anni centro del commercio della Piana del Sele. Nell'area mercatale dello stadio Sant'Anna migliaia di persone, come se vince dalle foto su Facebook nella pagina di Sele Battipaglia, il vero, hanno fatto acquisti nelle ore selari e notturne rispondendo in maniera convinta all'iniziativa organizzata dall'associazione Mercab Battipaglia, di concerto con l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca francese. L'evento ha preso il via dalle ore 17 fino a tarda sera. Shopping ma non solo, piacevole è stato anche l'intrattenimento riservato a grandi e pincini, con musica, mascotte gonfiabili ed animazione. Buona la prima, adesso si replica lunedì 13 agosto, sempre a partire dalle ore 17 con Notti Bianche al mercato. Grazie. 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 Grazie.